sono luca di argilleventi e comunicazione sono nicola di argilleventi e comunicazione sono marika l'insegnante del corso instagram per il tuo business in questi giorni noi tutti stiamo vedendo cambiare molte cose ma vi assicuriamo che la nostra voglia di impararvi a conoscere il mondo di instagram non è per niente cambiata per il mese di marzo avevamo in programma una nuova edizione del corso instagram per il tuo business e noi vi garantiamo che si farà saremo solo fisicamente distanti ma di fatto saremo vicini e lavoreremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto quindi il corso di marzo di instagram per il tuo business non si svolgerà a spazio argilla a foligno perché nel rispetto delle recenti disposizioni abbiamo sospeso le attività di formazione in aula ma il corso si farà e potrete seguirlo comodamente da casa abbiamo deciso di proporvi il corso in modalità virtual school tutti i partecipanti potranno fare il corso online a distanza semplicemente usando un computer queste sono le date e gli orari del corso ci collegheremo su una piattaforma web del tutto gratuita che diventerà la nostra aula virtuale e vi assicuro che si tratta di uno strumento molto molto facile da usare e in ogni caso vi daremo tutte le informazioni prima di iniziare il corso potrete assistere alla lezione in diretta streaming e vivrete tutto quanto in tempo reale la mia lezione le slide le esercitazioni le simulazioni e anche il laboratorio finale in qualsiasi momento potrete interagire con me e gli altri compagni della classe per rendere più facile la comunicazione fra di noi per ogni lezione abbiamo previsto 30 minuti supplementari 30 minuti in più che saranno dedicati a voi quindi voi avrete il tempo e lo spazio se vorrete di farmi delle domande chiedermi dei chiarimenti e commentare le cose che abbiamo visto a lezione per partecipare al corso servono tre cose e sono sicura che ce l'avete tutti quanti un computer uno smartphone e una connessione a internet veloce e stabile in questo caso l'utilizzo del computer è indispensabile perché solo così potrete vedere la lezione nella massima qualità come sempre si svolgerà in quattro incontri dieci ore in totale dove faremo almeno tre ore di esercitazioni non solo durante il laboratorio finale ma anche lezione per lezione un'altra informazione che potrebbe interessarvi e cioè che dal momento che tutti quanti stiamo operando in queste condizioni del tutto eccezionali abbiamo deciso di ribassare il costo del corso quindi il corso ha un costo di 129 euro più iva invece che 149 euro più iva se vuoi partecipare al corso puoi iscriverti entro venerdì 20 marzo i posti sono più limitati del solito in parte perché abbiamo già degli iscritti e in parte perché vogliamo mantenere un numero di partecipanti ottimale per assicurarvi un'esperienza lineare e piacevole qui ti lasciamo il sito di argilla eventi e comunicazione dove puoi andare a vedere tutte le informazioni sul corso instagram per il tuo business in questa nuova versione online che ci piace chiamare virtual school e infine voglio ricordarti che instagram per il tuo business è un corso pensato per imprenditori professionisti dipendenti e persone che hanno un progetto un'attività da promuovere infatti il focus è 100% business oriented non a caso si chiama instagram per il tuo business e quindi se pensi possa fare al caso tuo mi raccomando vai a vedere tutte le informazioni nel sito ciao vi aspettiamo nella virtual school di instagram per il tuo business